Si avvicina come ogni anno il 2 novembre, ovvero la commemorazione dei defunti, da sempre una ricorrenza molto sentita con la consuetudine di visitare i propri cari al cimitero. A Teramo lo stato dei cimiteri rispetto ad un anno fa è totalmente cambiato, grazie ai lavori di messa in sicurezza conclusi in questo lasso di tempo, in particolare nel cimitero monumentale di Cartecchio. Nel cimitero monumentale non abbiamo più inagibilità, non abbiamo più impedimenti. Nei prossimi giorni sicuramente ci sarà l'appalto dei lavori pure della sistemazione del portale d'ingresso del cimitero, che sarà un ulteriore passo in avanti, che ci consentirà di togliere anche quell'ultima impalcatura che c'è sul cimitero monumentale. Ovviamente con la gestione della teramo ambiente il cimitero ha ripreso un'altra forma, un'altra bellezza. Il comune Latteam che gestisce oltre al cimitero cittadino monumentale tutti e 15 cimiteri frazionali sono al lavoro in questi giorni per una serie di attività di manutenzione ordinaria e straordinaria. Sta svolgendo un'attività di verifica e controllo, di preparazione e di avvicinamento alle festività che in qualche modo porterà ad avere un'organizzazione quasi nel dettaglio totalmente impeccabile. Ovviamente ci sono dei deficit di carattere strutturale per la vetustà dei cimiteri che in qualche modo non può dipendere dalla teramo ambiente, ma in questi giorni abbiamo ottenuto un finanziamento importante anche sui cimiteri che andremo nei prossimi mesi a gestire sotto il profilo proprio della riprogrammazione di tutti i lavori necessari nei cimiteri frazionali e anche su quello monumentale. Ma in questi giorni sono arrivate diverse segnalazioni negli uffici comunali per la presenza massiccia di piccioni e guano nei cimiteri, un problema su cui l'amministrazione comunale ha annunciato di essere al lavoro per trovare una soluzione. Sì, purtroppo questo è un problema atavico che ci rincorre ogni anno, nello stesso tempo stiamo lavorando anche in questo senso, con l'assessore Martina Maranella si era pensato anche ad un possibile, diciamo un alimento particolare da dare ai piccioni per evitare che potessero continuare a crescere di nuovo. Diciamo che sono tante le attività messe in campo, la teramo ambiente sta lavorando in questo senso, sicuramente ci troveremo quest'anno molto meglio rispetto al passato. Grazie. 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 Grazie.